Guardate un po' chi c'è qui, si chiama York, è un cagnone, è appena arrivato qui al rifugio Baudi Alpignano è una taglia medio grande, guardate che bello, tutto color crema York ha circa 5 anni, lui è vissuto col suo proprietario che adesso non può più gestirlo e allora è arrivato qui al rifugio Baudi Alpignano e sta cercando un'altra famiglia guardate vi faccio un primo piano su questo musetto è un cagnolotto timido, dolce, tenero, tranquillo, piccolino lui però è socievole perché noi assolutamente non ci conosceva siamo qui con volontaria e tutto quanto e praticamente si lascia carezzare si lascia fare le coccole, guardate che bello York allora vi aspetta qui al rifugio Baudi Alpignano, guardate questo musetto mi raccomando York ha circa 5 anni e sta aspettando un'adozione vi aspetta